Sono trascorsi 30 anni, dal 1993 ad oggi, un anniversario importante per Ance e Gioveni che ha voluto festeggiare questo evento dal titolo significativo Generatività e imprenditoria giovanile, inaugurando per l'occasione una mostra fotografica realizzata dal fotografo Antonio Di Cecco, allestita al Palazzetto dei Nobili e all'Aquila. La forma dei luoghi è un progetto aperto, nel senso che è un progetto che ho iniziato nel 2019 e che è tuttora in corso e che ho intenzione di proseguire ancora per molti anni dato che, come suggerisce il titolo, riguarda proprio la maniera in cui noi percepiamo i luoghi, la loro forma i luoghi negli ultimi quasi 15 anni hanno cambiato la loro forma in maniera continua e continuativa quindi il progetto riguarda proprio la creazione di un archivio delle memorie dei luoghi Ringrazio Lance per avermi dato l'opportunità di esporre una parte del lavoro è proprio quella di ragionare sull'immaginario, quindi fondere un po' memoria e immaginazione per percepire effettivamente il percorso che i luoghi fanno insieme a noi o forse noi facciamo insieme ai luoghi celebrare il nostro anniversario attraverso la collaborazione con il fotografo Antonio Di Cecco che tra l'altro è anche un ingegnere e quindi molto vicino al nostro mondo e attraverso anche le immagini delle attività che il nostro settore porta avanti da tanti anni abbiamo deciso in qualche modo di voler aprire questa mostra al pubblico quindi di far vedere non solo, quindi festeggiare tra di noi come sarà in maniera un pochino più ristretta successivamente alla mostra ma anche di coinvolgere la cittadinanza e aprire la mostra al pubblico Io sono rimasta molto contenta quando sono stata appunto contattata dalla presidente l'ingegnere Laurini e mi sono detta sì, collaboriamo, facciamo anche noi una cosa con voi però ho detto cosa? Per cui mi sono un po' riportata indietro con quello che fa la fondazione e soprattutto dal punto di vista archivistico Avevamo avuto esperienza con Antonio Di Cecco per una mostra che abbiamo fatto a marzo effimero è una mostra riuscitissima e quindi l'idea di portare come documento la fotografia che potesse unire tutte e due le situazioni sia la tradizione della fondazione e sia la fotografia come strumento di lavoro per quanto riguarda i giovani ingegneri e costruttori Il titolo, non so se avete letto anche nel materiale, è la forma dei luoghi